bentornati sul canale di anime dal mondo io sono alex e questo è sempre il vostro canale preferito per voi creativi e creative oggi parliamo di una cosa particolare che è un po esula da quello che è l'argomento che tratta questo canale ma neanche troppo avete letto dal titolo collaborazioni allora parliamo di questo questo è un video di servizio chiamiamolo in questo modo perché ovviamente il canale si sta ingrandendo ci sono cose che arrivano da altre parti e intendo richieste magari di collaborazione piuttosto che di lavoro ma quello è un altro discorso ma soprattutto di collaborazione vi sto parlando del canale e che inevitabilmente possono cambiare determinate cose questo non vuol dire che il canale cambia assolutamente e questo che vi sto dicendo è qualcosa che hanno già preso gli abbonati e se trovate qua sotto appunto il link il bottoncino con la scritta abbonati potete vedere quali sono i vantaggi che hanno gli abbonati e poi tutti i link qua sotto anche dei social e tutto il resto ai se non l'è ancora fatto così magari iscriviti giusto che sei lì così vedi anche tutti i video che arrivano se clicchi la campanella ma a parte questo inevitabilmente le cose cambiano non in peggio assolutamente vi faccio questo video di appunto aggiornamento perché comunque sono sempre molto trasparente sulle cose che dico e faccio qua sul canale soprattutto per voi che mi seguite e quindi mi sembra giusto raccontarvi anche determinate cose i video della domenica saranno essenziali per mantenere quello che è la struttura del nostro canale o meglio del mio canale ma che ormai è anche vostro quindi gli argomenti saranno sempre su modellismo collezionismo di orami come si fanno cose tutto quello che riguarda sempre e quello che è stato il canale anime dal mondo mentre video addizionali che arriveranno infra settimanali allora sì quelli saranno cose più per quale motivo i telefoni parlano da soli vabbè lasciamo perdere quello che appunto volevo dirvi che i video che arrivano infra settimanali saranno magari di argomenti diversi anche per conoscermi meglio perché io ho altre passioni e quindi mi sembra quasi giusto farvi conoscere anche altre cose quindi farvi conoscere magari altri prodotti che uso che sono che esulano dal modellismo ma che effettivamente fanno parte della mia vita quindi fotografia video musica se è possibile musica perché sapete che su youtube discorsi copyright sono un po un tabù insomma ma quello che potrò e farvi farvi conoscere saranno anche quello che è le collaborazioni che mi stanno arrivando alcune le decido io nel senso che magari c'è una cosa che mi interessa e chiedo alle aziende di farmi provare qualche prodotto oppure qualche servizio e magari ci sta che arrivino anche queste collaborazioni altre invece mi vengono proposte una volta che mi vengono proposte però io decido a a mia volta se prendere quella collaborazione perché il prodotto il servizio mi piace mi interessa oppure no quindi posso spaziare per qualsiasi motivo da una cosa all'altra ma semplicemente ne parlo perché è una cosa che piace a me è anche un po per variare quello che è il mio modo di fare video piuttosto che di rapportarmi con voi e con altre persone che magari possono avere gli stessi miei interessi quindi modellismo e tutto quello che è creativo ma di conseguenza ci sono altre passioni magari per esempio la fotografia che è una delle mie passioni da sempre e quindi succede che un po vanno a coadiuvarsi il fare modellismo piuttosto che la fotografia la fotografia serve anche per fotografare i vostri modelli e quindi renderli magari migliori anche a livello di immagine quindi questo è proprio un video di servizio per dirvi che stanno iniziando delle collaborazioni e queste collaborazioni le porterò sul canale ovviamente vi spiegherò e vi dirò in ogni video se è una cosa sponsorizzata tra virgolette oppure è una cosa che viene direttamente da me quindi vi dirò tutto come sempre trasparenza pura questo era il video di servizio ditemi cosa ne pensate perché effettivamente non cambierà molto ci saranno solo più video ma i video in più saranno magari di altri argomenti di argomenti che mi appassionano tutto lì una cosa che cambia relativamente quello che è la visione del canale più video ma con più interessi sostanzialmente succede questo io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine scusandomi magari del cappellino che qualcuno a qualcuno non piacerà ma piaceva me quindi tanto basta da alex e anime dal mondo è tutto ci vediamo al prossimo video